Per difendermi nei caschi, per nascondermi, ho santi a cui rivolgimi, ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e non mi... Si parla di prevenzione sui luoghi di lavoro al Kismet di Bari con la premiazione della nuova edizione di Dalpan Coscenico alla realtà a scuola di prevenzione. Il progetto, giunto alla sua decima edizione, è promosso da INAIL Puglia con lo scopo di sensibilizzare gli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado ai temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, rendendoli protagonisti nella realizzazione di opere culturali come sceneggiature, teatrali e cortometraggi. Questa manifestazione rappresenta il risultato del nostro impegno in ambito prevenzionale. Anche quest'anno abbiamo voluto sottolineare l'importanza della creatività e del teatro per portare ai ragazzi il messaggio della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo facciamo con passione, lo facciamo con la nostra consueta attenzione e i risultati sono straordinari perché la partecipazione delle scuole e dei ragazzi è ogni anno motivo di conforto e motivo di attenzione per quello che intendiamo fare anche nei prossimi anni. La sicurezza è un tema fondamentale, un tema culturale e su questo ci stiamo attrezzando per fare sempre meglio e sempre di più.